Sì. Dobbiamo dire la verità. È finita. È troppo tardi. L'hai vista. Hai visto che cosa le abbiamo fatto. Non può continuare, non possiamo più mentire. Dobbiamo fare la cosa giusta. Dobbiamo fare la cosa giusta per Lucy. Non per te, non per me, non per una... Estranea solo per Lucy. Lei è sua madre. Sono io sua madre. Per Lucy la mamma sono io. La luce sugli oceani dall'8 marzo al cinema. Grazie a tutti.